Durante una commovente apparizione a Verissimo, il celebre programma televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, la modella e attrice serba Nina Senikar ha condiviso una notizia gioiosa. L'attesa del suo secondo figlio dall'attore statunitense Jay Ellis. La coppia, già genitori della piccola Nora Grace nata nel 2019, si prepara a dare il benvenuto a un nuovo membro della famiglia previsto per metà luglio. Senikar, 38 anni, ha rivelato di essere al quinto mese di gravidanza, un annuncio che ha scatenato applausi e congratulazioni nel pubblico in studio e dalla stessa Toffanin. La showgirl, visibilmente emozionata, ha condiviso il suo entusiasmo e la felicità di Nora, ansiosa di diventare una sorella maggiore. L'intervista ha anche toccato momenti personali significativi della vita di Senikar, compreso il suo trasferimento dagli Stati Uniti all'Italia e la decisione di sposare Ellis in Toscana nel 2022, nonostante avesse precedentemente escluso l'idea di legarsi a un attore. La sua storia d'amore con Ellis, contraddistinta da una proposta romantica che ha immediatamente convinto Senikar a dire sì, è stata una piacevole sorpresa nella sua vita, portando alla luce una relazione basata su un profondo legame affettivo e reciproca ammirazione. La notizia della gravidanza di Nina Senikar non è solo una celebrazione della sua crescente famiglia con Jay Ellis, ma anche un simbolo della loro unione e amore. Mentre il pubblico attende con impazienza l'arrivo del nuovo bambino, Senikar e Ellis continuano a condividere momenti di felicità e anticipazione per il futuro. L'annuncio di Senikar a Verissimo ha riacceso l'interesse dei fan e dei media, dimostrando ancora una volta il suo fascino e la sua capacità di toccare il cuore del pubblico con storie personali e genuine. Scrivi un messaggio di auguri per Nina Senikar nei commenti sotto al video. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime notizie.